L'economia del mare dà vita in Toscana ad una pluralità di imprese, 13.000 secondo il rapporto del sistema camerale e il 43% di queste sono attive nel settore turistico-recreative, di poco superiore alla media nazionale che è del 40%. Complessivamente le imprese riconducibili all'economia blu in Toscana valgono il 3,2% del totale. In Italia il dato è del 3% e Livorno si posiziona in questo frangente nella parte più alta della classifica nazionale, ottavo posto con 3.982 imprese. Esiste un turismo che è percentualmente minoritario ma che in proporzione è quello che crea maggiore indotto, tradotto è quello che porta più soldi nelle tasche degli operatori turistici toscani, è il turismo da diporto e sulla costa livornese c'è una struttura che si conferma un'eccellenza del settore. Marina di Cala dei Medici è una delle calamite del diportismo toscano, 650 posti barca da 8 a 36 metri, situata tra Rosignano e Castiglioncello nel cuore della costa degli Etruschi, 1.400 transiti nella scorsa stagione. Sì, noi crediamo fortemente nella connessione con il territorio, è ciò che ci permette di offrire un servizio all'utente qualitativamente superiore perché noi siamo in un territorio bellissimo che è quello dell'introterra toscano e sappiamo che chi si ferma da noi dovrebbe essere spinto, deve essere spinto a rimanere. La spesa pro capite giornaliera di un diportista infatti viene stimata in 51 euro e considerando il moltiplicatore regionale si arriva a una stima di ricaduta economica pari a 205,53 euro giornalieri. Più sono grandi le imbarcazioni, più il mercato della nautica cresce e più è difficile mantenere un livello qualitativo adeguato e che risponda sempre alle esigenze di una clientela molto molto esigente.